E arriviamo al 2010 alla nomina del professor Claudio Deporelli al direttore del Diag. Come abbiamo sentito negli interventi precedenti nel 2000 nasce la nuova disciplina dell'ingegneria gestionale e si registra come abbiamo sentito un vero e proprio boom. Questa laurea attira a differenza delle altre un pubblico forse maggiormente femminile ma vorrei chiedere al professor Deporelli che cosa caratterizza questa nuova figura l'ingegnere gestionale e qual è il suo impatto sul mondo del lavoro? L'ingegnere gestionale ce ne sono tanti in Italia molto diversi tra di loro forse tanti quante sono le sedi perché il campo di problematiche che possono essere affrontate è talmente vasto e i numeri dei gruppi di ricerca che poi hanno attivato questi progetti di dati sono spesso così limitati numericamente che ognuno dà una sua versione, fa quel poco che può fare con le forze che ha. In effetti questo è un settore in cui si giustifica una massa critica significativa e noi all'inizio abbiamo avuto seri problemi di massa critica ma insomma li abbiamo a mio avviso affrontati e risolti abbastanza positivamente. L'ingegnere gestionale ha avuto spazio in Italia essenzialmente, è uno spazio che non è detto duri in futuro, essenzialmente sfruttando limiti dell'ingegneria tradizionale e anche forse dell'economia aziendale così come veniva sviluppata nelle facoltà di economia. Punta a occuparsi essenzialmente di quei problemi decisionali, di manageriali, di valutazione che sono fortemente legati alla tecnologia. Parte nei primi anni del Novecento con quella che veniva chiamata engineering economy, che non era nient'altro che la valutazione finanziaria di progetti di investimento a fronte di grosse spese irreversibili iniziali tipiche dei progetti ingegneristici. Poi si è sviluppata con l'industrial engineering che si occupava di temi molto legati alla gestione degli impianti, alla manutenzione e così via. Poi si è diffusa la terminologia di engineering management in cui di nuovo l'enfasi era soprattutto sull'ingegneria e sulla gestione del mondo dell'ingegneria, legata al mondo dell'ingegneria. Più recentemente si parla di management engineering e quindi in qualche modo si è ampliata l'ambizione a quella di ingegnerizzare il management, in qualche modo di introdurre una serie di tecniche, di strumenti più formalizzati a supporto del management in generale. Le aree che vengono affrontate sono molte, in un recente survey fatto all'assemblea annuale del nostro settore disciplinare, del settore ingegneria economico-gestionale, sono state individuate, classificate le aree che sono l'area principale di ricerca e di didattica di chi fa parte di questa associazione, si sono individuate economia, finanza, gestione di impresa in generale, gestione dei processi, gestione dei progetti, gestione di innovazione, marketing, logistica, strategia, come una serie di aree. Vedete che sono tante ed è quindi realistico che una sede le affronti tutte. Quindi ha del miracoloso, da qualche punto di vista, il successo della nostra sede. La nostra sede, appunto, partendo nel 2000 con il primo corso di laurea, è arrivata ad avere 330 i matricolati, rispondendo sempre positivamente alle pressioni, l'ultima delle quali è fatta dal rettore, che era presente fino a poco tempo fa, di allargare il numero programmato, nonostante il nostro gruppo sia, come fa vedere la relazione del nucleo di valutazione, sia molto efficace nell'ottenere laureati nei tempi regolari, ai massimi livelli nell'Ateneo, ma anche uno di quelli in maggiore sofferenza di organico. C'è da dire che la nostra sede, il curriculum che noi abbiamo sviluppato, è strettamente legato alla natura, alla cultura, alla storia del nostro dipartimento. Siamo uno dei primi corsi che si è collocato nella classe dell'ingegneria dell'informazione, siamo il corso che per primo ha dato molto spazio all'informatica e che per primo ha dato molto spazio alla ricerca operativa. Quindi siamo un modello originale e che possiamo dire è stato un modello di successo. E' probabile che questo modello ci aiuterà a svilupparci in futuro, in un momento in cui molto più di prima diventano importanti questo tipo di collaborazioni interdisciplinari. Un'ultima notazione sulla nostra laurea è la laurea di Ingegneria della Sapienza, con la massima incidenza di immatricolazioni femminili, circa il 38%, che diventa il 45% come incidenza dei laureati magistrali, che dimostra che le ragazze hanno migliori successi. Approfitto, anche se forse lei non sarà contenta, per salutare Anna D'Annunzio, che è in aula, che è una nostra immatricolata al primo anno di attivazione di questa laurea, che adesso è professora associata a Tolosa, e che ha una produzione scientifica di altissima qualità, anche se forse non adatta a rispettare i cervellotici criteri di ammissione alle valutazioni che la Sapienza ha fissato. Ok. Grazie mille. Grazie.